La tax, l'azienda che ha fatto grande il casentino ascolti, visto che c'è Roberto lì, ha visto che cani belli, Davide, Davide Sabelli, seconda generazione, Roberto, vi siete spostati dalla vigna, ho visto, mi senti Roberto? Non c'è niente, non c'è ritorno. E' un tessuto che si presta a tanti usi, siamo alla terza generazione, mio nonno Bruno era uno dei responsabili di produzione del vecchio lanificio di Stia, poi negli anni 60 si mise in proprio, fondò questa tessitura, prevalentemente per lavorare conto terzi, poi dopo iniziò a produrre la produzione, Massimo gli ha dato un'anima un po' più imprenditoriale. Però è bello perché c'è vedere queste aziende che crescono di padre in figlio, che soltanto da noi possono, visto Alessia come ho detto prima, veramente questa è un'eccellenza che grazie anche a Confartigianato, perché Confartigianato cerca di mettere in vetrina quelle che sono le aziende, che sono distinte, perché voi avete coinvolto il territorio del casentino. Sì, noi... Le famiglie, quante famiglie avete dato da lavorare? Soprattutto negli anni 70-80 a tante persone. Senti, ma perché questo, guarda qui poi abbiamo anche un cappotto qua dietro, perché questo tessuto così particolare, che poi con questi colori che voglio dire arancione e verde, no? Sono le caratteristiche, sono le caratteristiche che il ricciolo, che sembra sia nato per dare una sorta di doppio strato al tessuto, perché chi lo portava doveva stare molto all'intemperie, diciamo, e quindi per renderlo un pochino più impermeabile. Certo, perché poi nasce come abito da lavoro questo, anche, nel senso, cioè... Lo mettevano i barrocciai, che portavano le mercanzie a Firenze... I sai, ci facevano per i francescani, ci siamo nel casentino, quindi nasce come un capo, poi lo vediamo anche qui nelle foto, nasce come un capo, e poi prende vita ed entra nella moda. E siete adesso in tutta Italia? Noi sì, abbiamo aperto un punto vendita anche a Firenze adesso, vicino a Via Tornabuoni. Sì, quindi sicuriamoci. Allora, poi proseguiamo. Roberto!